colleghi benvenuti colleghi benvenuti conferenza stampa mister Roberto Stellone pre-Regina Benevento cominciamo con la prima domanda a cura di Michele Favano prego Michele si mister si è stato di parola avevi detto che a Cremona Senaver vincere l'atteggiamento è stato quello che se Pecchia poi il pomeriggio ha parlato di una squadra con otto uomini dietro la linea della palla però queste sono considerazioni sue Benevento è una squadra forte, diversa dalla Cremonese meglio affrontarla in maniera diversa vista le caratteristiche che ha perché il campo aperto è veramente micidiale e ti concede quasi nulla e quasi sempre riesce anche a fare gollo su ogni ripartenza tornando alla partita con la Cremonese al di là di quello che che ha detto Pecchia c'è stato insomma il rammarico di non aver vinto la gara perché l'abbiamo disputata bene c'è stato solo dopo il primo quarto d'ora dove dovevamo andare in vantaggio e non i primi sette minuti dovevamo e potevamo andare in vantaggio in quel paio di occasioni che abbiamo avuto è riuscita un po' fuori la Cremonese senza impensierirci più di tanto dove ha alzato un po' il baricentro ma ha concluso due volte da 30 metri e nella ripresa loro sono andati in vantaggio dopo 4 minuti e da lì in poi abbiamo alzato il baricentro abbiamo attaccato e creato c'è stata poi sicuramente l'espulsione che ci ha agevolato per pareggiare la partita per carità ma i dati dicono anche che abbiamo battuto sei calci d'angolo a uno abbiamo avuto nel secondo tempo il 67% di possesso palla contro una squadra forte come la Cremonese e siamo stati sfortunati in un paio di occasioni che potevamo vincere quindi al di là di quello c'è il rammarico perché hai fatto una grande gara sotto tutti gli aspetti e non hai ottenuto la vittoria la cosa che mi è piaciuta è vedere i miei giocatori tristi a fine partita quindi vuol dire che la mentalità è quella giusta ed è la mentalità che dovremo avere domani in queste restanti sei partite il Benevento è una squadra diversa è una squadra che ha il miglior attacco la terza miglior difesa è una squadra che viene da una vittoria importantissima bellissima contro il Pisa che a sua volta era la difesa migliore del campionato gli hanno rifilato con 5 gol società importantissima il Presidente ogni anno fa grandissimi investimenti sin da quando erano in C che non riuscivano a salire in B si sono ritrovati a andare per Meritin in Serie A quindi è una società che investe molto sul mercato ed è una squadra secondo me costruita per vincere il campionato ed ha grandissime dualità ed ha un grandissimo secondo me gioco perché è propositiva perché attacca perché non dà punti di riferimento nel senso che spesso e volentieri se gioca 4-3 può sembrare solo di partenza ma in realtà le mezzali si inseriscono i tersini spingono tantissimo e impostano con tre giocatori quindi una squadra che non ti dà soprattutto in fase di possesso loro punti di riferimento per come andarli a prendere hanno vinto sia con chi li aspettava e hanno vinto sia con con chi li andava ad attaccare alti quindi noi dovremmo essere bravi a capire i momenti della partita e dovremmo cercare sempre di dare il massimo per ottenere il massimo da questa partita perché c'è stato il pareggio con la Cremonese ma ancora possiamo possiamo lottare per quell'obiettivo difficile bisogna dirlo che è difficile perché visto anche la nostra non vittoria e la vittoria dell'Ascoli ci ha allontanato un po' di più però adesso avranno loro l'Ascoli due partite difficili e quindi pensando ad affrontarla noi una alla volta abbiamo questa gara che sulla carta può sembrare ed è difficile ma dobbiamo cercare di indirizzarla dalla parte nostra dando il massimo per cercare di ottenere i tre punti Giusva Branca Sportiro Sestrilla Mister buonasera ti volevo una domanda specifica sulla posizione di Vanez a Cremona ero proprio sopra di te in tribuna quindi ti ho guardato parecchio mi è sembrato però ti chiedo conferma perché tante volte prendiamo cantonate interpretando mi è sembrato che a un certo punto tu abbia chiamato Menez che tendeva a giocare sulla linea delle punti dall'altra parte chiedendogli di venire un po' più indietro di galleggiare e prendere quella palla e creare lui la superiorità e infatti poi il secondo gol il pareggio della regina l'azione di rigore è nata in questo modo ecco sulla posizione di Menez credi che sia necessario questo tipo per coinvolgerlo di più affinché non resti isolato dal gioco le caratteristiche del gioco lo preferisco giocare sul centro-sinistra perché essendo bravo a rientrare dentro ti può mettere con il destro la palla gol o l'assist o il tiro come è venuto il gol o come è venuto l'azione del gol con il passaggio su Cubis o come è venuto anche il taglio nel gol non mi ricordo forse con il Pordenone con la palla di Montalto ho partito da là tagliato nel modulo di domani è un sottopunta che come caratteristica previsco che mi agisce un po' di più su quel lato là Franco Pelicanò Gazzetta dello Sport mister hai saputo creare un clima di grande entusiasmo nella squadra nella tifoseria anche per i risultati e per le prestazioni e di qualche minuto nella notizia del deferimento da parte della Progola federale su segnalazione alla Covizoc quel deferimento che si deveva tu hai anticipato che pensavi che almeno due punti venissero meno in questo percorso tuo percorso a guidare la regina ecco se tutto ciò si avverassa ritiene che ancora il fatto di potere o volere vincere sei partite ti può dare l'accesso la guagnata accesso a noi oppure questa decisione di oggi della Progola federale può far venire meno per tanti aspetti il clima di entusiasmo e di voglia che c'è per tagliare questo obiettivo allora noi il momento di entusiasmo ci deve continuare perché dobbiamo pensare a quello che era un mese e mezzo fa due mesi fa quindi l'obiettivo poi è cambiato perché abbiamo ottenuto la salvezza e quindi l'obiettivo ci è cambiato noi comunque sempre dobbiamo fare cinque o sei vittorie e sperare che le altre quelle che ci stanno sopra facciano qualche qualche passo falso non è facile perché sono in sei partite parliamo di di sedici punti dove se questa distanza tra noi e il Frosino tra noi e l'Ascoli con questi rischi di non fare al massimo ne vuoi fare diciotto potrebbe essere anche che non che non bastano comunque non avremo mai rimorso il rammarico di non averci provato come abbiamo fatto con la Cremonese noi le restanti partite le giocheremo con la voglia di vincere con l'entusiasmo che abbiamo perché comunque se non dovesse essere non deve essere poi un obiettivo fallito un obiettivo non raggiunto perché quando sono arrivato io se non sbaglio stavamo a due punti sopra dal quinto ultimo posto se non sbaglio e in quel momento la si vedeva ancora peggio la classifica perché si veniva da da dieci partite un punto dove tutto diventa più difficile dove guardi il calendario e dici dove vado a fare queste sei sette vittorie che che mi servono per salvarmi perché in quel momento erano sfiduciati i tifosi era sfiduciato l'ambiente voi eravate sfiduciati i giocatori erano sfiduciati ma poi con una vittoria nel derby col Crotone abbiamo visto che poi la squadra non era così male e non è che sono migliorati con me tecnicamente oggi vediamo a Cremona a Parma in diverse partite giocate di qualità di giocatori e solamente perché si sono sbloccati a livello mentale le vittorie ti danno fiducia in te stesso come le sconfitte te la fanno perdere la fiducia quindi noi ci proveremo tornando alla tua domanda proveremo con tutte le nostre forze a fare più punti possibili poi se non riusciremo insomma nell'obiettivo dei playoff pazienza e cercheremo di resettare e ripensarci poi l'anno prossimo Vincenzo di Alacqua Gazzetta del Sud Buonasera sempre buonasera ma quello appena si fa si dice non è che ci stanno i segreti volevo chiedere le due cose la prima è relativa a Polo Ruscio che è un giocatore che per l'utilità può ricoprire le varie posizioni del campo senza mai demeritare se in questo momento anche che con il ritorno e la disponibilità dell'attaccante lei lo preferisce in quella zona del campo perché dà qualcosa in più che le serve al suo sistema di gioco e poi un'altra domanda più generale nel percorso di avvicinamento di questa squadra ha la sua idea di calcio al suo modo di intendere c'è qualcosa che in queste sei gare si aspetta dalla squadra un miglioramento magari nella fase realizzativa che ancora è un po' balbettante grazie allora Michael è un giocatore duttile è un giocatore di grandissima qualità di grandissima forza fisica in certi momenti è straripante quando parte da dietro ha una velocità una potenza che salta facilmente l'uomo abbiamo visto in queste partite che è anche bravo quando gioca di spalle alla porta perché fa salire la squadra si inserisce e quindi è un giocatore duttile che può ricoprire più ruoli logicamente con Menez se dovesse giocare Menez gioca invece e comunque può tornare nel ruolo di Mezzala che lo interpreta e l'ha fatto benissimo il discorso lì sul miglioramento per la fase realizzativa noi nelle ultime dieci partite siamo la miglior difesa del campionato quindi a me in quel momento interessava sistemare soprattutto la fase difensiva che non vuol dire sistemare i difensori la fase difensiva la fanno e si fa in 11 da squadra dove molte volte agli attaccanti gli si richiede un grande sacrificio per aiutare centrocampo aiutare difesa quindi a volte può essere che si arriva un po' stanchi nella fase offensiva realizzativa perché viene speso molto anche da parte degli attaccanti basta vedere che Rivas e Folorunso nelle due partite precedenti anzi tre perché parliamo anche di Cittadella e Cosenza sono i due giocatori che hanno fatto più chilometri di tutti all'interno della gara invece di solito come dati i due attaccanti insieme ai due difensori centrali o tre sono quelli che corrono un po' di meno perché è così tutte le squadre e di solito corrono di più gli esterni i tersini i quinti i centrocampisti e poi ci stanno ultimi i difensori centrali e gli attaccanti quando io ho due attaccanti che mi corrono più di tutti quanti è normale che poi perdi un qualche cosa in fase realizzativa ma a me quello che conta poi alla fine sono i punti che vengono fatti poi se segnano dieci goli attaccanti in più sono contento per loro ma a me cambia poco insomma quindi ma al di là di questo c'è sempre da migliorare in tutte le fasi perché si gioca ogni volta una partita diversa contro una squadra diversa contro un modulo diverso e più si lavora insieme più si sbaglia più si cresce quando si guardano e si migliorano poi gli errori insomma quindi devo dire che in due mesi non mi aspettavo sinceramente al di là dei risultati non mi aspettavo una squadra così già ben organizzata sotto tanti aspetti quando mi rivedo la partita che abbiamo giocato faccio fatica per quelli che sono i miei concetti a trovare qualche errore di concetto non parlo di un lancio sbagliato di un cross sbagliato di un tiro fatto male parlo di movimenti organizzativi tattici per quanto riguarda la fase di possesso e non possesso quindi e di solito questo lo raggiungi dopo un anno che lavori insieme e fai 250 allenamenti e quindi in merito come ho detto sempre ai ragazzi che sin dal primo giorno hanno messo un impegno una voglia una determinazione e una concentrazione perché sono situazioni di dove devi essere concentrato per migliorarsi per cercare di fare il massimo per quelle che erano le idee dell'allenatore e quindi sono stati bravi tutti e come ho detto non so se qui o in altre situazioni tutti hanno reso per quello che io li conoscevo perché quando un conto è quando alleni un giocatore ce l'hai tutti i giorni vedi la partita dal vivo ti fai un'idea un conto e quando li vedi da un video ti fai altre idee devo dire che tutti veramente come qualità come ragazzi mi hanno stupito in positivo tutti me li aspettavo meno bravi invece sono più bravi di quello che pensavo quindi il merito è stato sicuramente loro Franco Pelicano Benevento che fa 52 redditi è una partita in me soprattutto non ha tanti giocatori in doppia lì però mi pare soltanto uno quindi questo significa che sono diversi i giocatori che vanno in gol non solo gli attaccati ma il loro sistema di gioco alla tua squadra non chiedi non chiederai una particolare attenzione sono sulle palle inattive visto che loro tra l'altro ricorrono abbastanza bene lo hanno dimostrato in questa circostanza di solito quando in una squadra avversaria ci sono uno o due giocatori nel reparto offensivo più pericolosi uno dice diamo un occhio a quei due loro giocando come ho detto prima in un modo dove vanno vanno al gol anche i difensori vanno al gol spesso i centrocampisti hanno un parco attaccanti molto molto importante danno un gioco che porta di solito a scoprirsi un po' attaccando con tanti uomini e se giocano a quattro con i tersini diventano quasi due ali questo a volte ti porta a essere un po' scoperti in realtà loro sono anche la terza miglior difesa quindi come dati ha tutte le carte regola per ambire avendo anche una partita in meno ai primi due posti perché hanno tutto per per arrivarci e quindi dobbiamo stare attenti in tutte le situazioni con tutti gli uomini in tutte queste rotazioni di uomini che fanno sulle panni latine la partita deve essere al di là di chi incontri al di là se è il miglior attacco o la miglior difesa devi affrontarla con il giusto equilibrio con la giusta concentrazione con la giusta convinzione quando hanno palla loro quando abbiamo palla noi abbiamo anche noi delle nostre carte che ci possiamo giocare per metterli in difficoltà è verissimo tutto quello perché il Benevento lo dicono i numeri è una squadra di serie A calata in un campionato di serie B però la sensazione guardando le partite del Benevento è che canalizzano molto è vero che impostano con diversi giocatori ma canalizzano molto il suo campo il gioco che è un finto giocatore statico ma invece grande qualità grande dinamicità un bel mancino un bel mancino un campi di campo fa tante cose che un giocatore nel suo ruolo spesso non fa non impostare quindi si può pensare anche che chiudendo anche quella fonte di gioco si può tenere qualcosa in più la verità è che da una parte se gioca a Campora c'è Campora come Mezzala dall'altra parte c'è Unita anche lui ha qualità di inserimento di gol quindi chi gioca gioca secondo me il Benevento è una rosa talmente forte faccio un pensiero agli attaccanti se non c'è forte c'è Moncini c'è la Padula e gli esterni se non c'è sì sì no la Padula lo so non c'è però come parco attaccanti hanno Insign hanno in Proda hanno Faria non so se dimentico qualcuno quindi è una squadra importante in tutti i ruoli del campo in mezzo al campo hanno l'imbarazzo della scelta quindi è una partita difficile lo sappiamo come ho detto prima ma noi ce la metteremo tutta insomma per tornare alla vittoria perché nell'ultimo periodo sì abbiamo fatto buone prestazioni però non abbiamo vinto molto e questo mi toglie un po' il sonno anche se le belle prestazioni fanno comunque piacere come quella che abbiamo fatto col Cittadella o col Parma o con la Cremonese però io quando vinciamo dormo meglio quello mai perché comunque è uno sport e si vince e si perde l'importante è sempre dare il massimo e puoi camminare sempre con il sorriso perché se non cammini con il sorriso i problemi diventano diventano spesso più gravi di quello che sono il centro di l'acqua è disponibile e disponibile il centro di l'acqua mano è Montalto non c'è Foglietto stasera non c'è Foglietto c'è solo Montalto che è e la Chice che logicamente sta proseguendo con il suo lavoro di recupero e il tennis c'è invece? Sì sì Colleghi va bene così? Grazie per la vostra grazie Grazie